Più spettacolo production, dalle balere alle piazze di tutta Italia, per contattare tutti i nostri artisti, rivolgersi al 337 70 72 92. Se hai un'età compresa tra i 14 e i 30 anni e ti senti portata per il mondo della moda e dello spettacolo, potresti essere tu la protagonista della finale del concorso Miss Estate Toscana Celebration 2011. Per informazioni e iscrizioni, telefonate al seguente numero della redazione di Miss Estate Toscana Celebration. Parliamo adesso del concorso di talento e bellezza Miss Estate Toscana Celebration 2011. Sono già iniziate le iscrizioni per le nuove aspiranti Miss che vogliono candidarsi alle tappe di selezione del concorso di Miss Estate Toscana Celebration 2011, giunta la sua settima edizione. Ma torniamo indietro nel tempo facendovi vedere tutte le vincitrici assolute delle edizioni passate. Anno 2005, Valeria Giorgerini di Campiglia Marittima Livorno. Anno 2005, Valeria Giorgerini di Campiglia Marittima Livorno. Grazie, guarda che c'è per te, c'è la corona, la corona di Miss Estate 2005. Ora Riggi ti bacia, io te lo dico, non vedeva l'ora. Rista per partire, a me cuscino? Eccolo qua. Ah, questa notte è lì. Guarda che bellezza. Lave belle, simpatiche. Ricrazio Alpanese Panagenet, ringrazio gli organizzatori. Anno 2006, Romina De Gennaro di Marina di Cecina Livorno. Romina De Gennaro, Miss Estate 2006. Eccolo qua. Questa è la busta che mi è stata consegnata a questo esame di Miss Estate 2006. Anno 2007, Cecilia Cecatelli di Castelfiorentino, Firenze. If I give it up, cause we're rising up like the sun. So hold on, I will lift you up. Cecilia Cecatelli. Brava. Cecilia Cecatelli, 189, premia il sindaco Antonella Chiavacci. Ovviamente, con lei che indosserà, indosserà la fascia e poi, aspetta, aspetta un momento. Convinta? Sì. Gliela cedi volentieri? Sei tu che gliela fai indossare? Sicura? È la nuova Miss Estate Toscana 2007. Il vostro applauso, la passerella. Grazie. Anno 2008, Martina Spagnoli di Livorno. Martina Spagnoli! È la nostra vincitrice! Miss Estate Toscana 2008. Martina Spagnoli si attudica. Questa prestigiosa faccia è la forza a collaborare con la più spettacolo production albanese per ben 12 mesi. Allora, l'assessore pone il saluto. Possiamo partire con questo succello di poesia. Con questo succello della nostra Miss Estate 2008. Anno 2009, Deborah Giannini di Soiana, Pisa. Signore e signori, la nuova Miss Estate Toscana è... Lei si chiama Deborah Giannini ed è la numero 11! La musica è la mia musica! E l'assessore è la mia musica! Deborah, eccola qua! Numinosa come il sole! Signora, la faccia! e la corona il vostro applauso Deborah Giannini giovanissima bellissima dalle grandi promesse anno 2010 Francesca Landi di Lucca la numero 17 Francesca Landi Francesca Landi è la più bella Deborah a mano in cuore si toglie la corona la più bella Francesca Landi Francesca Landi la nostra vista è stata Toscana con un'altra e un'altra di un'altra applauso finale per la nostra mister estate tutto è veramente molto carine più spettacolo production dalle valere alle piazze di tutta Italia per contattare tutti i nostri artisti rivolgersi al 337 70 72 92 se hai un'età compresa tra i 14 e i 30 anni e ti senti portata per il mondo della moda e dello spettacolo potresti essere tu la protagonista della finale del concorso Miss Estate Toscana Celebration 2011 per informazioni e iscrizioni telefonate al seguente numero della redazione di Miss Estate Toscana Celebration Grazie a tutti